Pubblicate le motivazioni della decisione che ha negato il sequestro delle fonderie, il Tribunale del Riesame ha fornito ampia e motivata risposta a tutti i punti che la sentenza di rinvio della Cassazione aveva ravvisato come critici, colmando le lacune motivazionali segnalate. Il ricorso della Procura di Salerno, al contrario, risulta inammissibile, articolato in motivi che esulano dal giudizio di legittimità rimesso dalla Suprema Corte. E' una sentenza aggiunta dopo che le carte sono state trasferite tra Salerno e Roma. Per la Corte quel ricorso è inammissibile.